Piazza delle Vergogne a Rione e Tremonti di Giostra si sta lentamente trasformando nella Piazza della Bellezza, battute tutte le palazzine simbolo della peggiore speculazione edilizia degli anni Ottanta dopo una lunga battaglia combattuta dal comitato Risaniamo-Casa Nostra anche con l'arma dell'ironia contro la burocrazia e la cattiva politica. Avversari duri a morire perché anche se le ditte che si sono giudicate all'appalto continuano nei lavori, dalla Regione Sicilia non sono ancora arrivati i soldi già stanziati con decreto di finanziamento. Dei circa 2 milioni di euro previsti non è stato erogato nemmeno l'anticipo del 10% delle somme previsto per legge e si attendono anche le corrisponsioni dei due stati di avanzamento lavori. Ad incidere nei ritardi la nuova, o meglio dire eterna, crisi politica della Regione Sicilia, l'assessore comunale a risanamento Sebastiano Pino deve confrontarsi con il problema della variabilità dell'assessore regionale di riferimento. Il dialogo è comunque attivo con le strutture dirigenziali. Il complesso Casanostra attende il suo lieto fine che consiste nella realizzazione di un parco urbano. Le palazzine pericolanti fatte evacuare perché a rischio crollo, costruite senza scrupoli da imprese vicine alla mafia, adesso non ci sono più. Dalle macerie si può ricostruire se la Regione non dimentica i suoi doveri.